Per i più piccoli è stato un pomeriggio di svago insieme a mamma e papà, per i più grandi invece l'attenzione era divisa a metà. Un po' rivolte ai piccoli che correvano in lungo e largo per cortile Federico II, un po' con il naso all'insù, a guardare le finestre del Consiglio Comunale, all'interno del quale si discuteva anche di loro, delle famiglie cremonesi con i bimbi iscritti alle scuole per l'infanzia, che da quest'anno rischiano di dover pagare per la prima volta una retta. Rischiano perché a fronte della fermezza dell'amministrazione sul provvedimento, le famiglie non hanno nessuna intenzione di arrendersi, ma di continuare a farsi sentire come oggi, con colore e allegria, con toni pacati e propositivi. Toni che, dopo gli ultimi colloqui tra i rappresentanti dei genitori, gli assessori Alcuati e Nolli, paiono aver fatto breccia anche nella giunta, minando la granitica convinzione iniziale. E così un centinaio tra genitori e bambini hanno trascorso la seconda metà del pomeriggio assiepati sotto Palazzo Comunale, in attesa delle notizie in arrivo da sala consiglio, nella speranza di vedere accolte le loro istanze. Istanze che chiedono di rivedere l'introduzione della retta e gli aumenti dei costi accessori, come il pasto, l'ingresso anticipato e il tempo prolungato, insomma di mantenere la gratuità delle scuole comunali per l'infanzia. La scadenza del 31 luglio per la presentazione dell'ISE è vicina e le famiglie chiedono certezze. Dai saloni del comune arrivano poche informazioni, si parla di un impegno personale del sindaco, si sussurra di fondi regionali e statali per le famiglie in difficoltà. Intanto i bambini giocano, i genitori aspettano. Nuove iniziative in programma per ora non ce ne sono, restano le 980 firme raccolte dai genitori a sottoscrivere la richiesta di certezze.